91 casi trattati in provincia dal servizio per le dipendenze patologiche dell'area vasta 1 per gioco d'azzardo patologico. 14 a Fano, 46 a Pesaro, 19 a Urbino e 12 a Fossombrone. Ma il dato rappresenta una punta dell'iceberg dato che chi arriva a rivolgersi al CERT è ormai in condizioni disperate. Ma chi sono le persone che maggiormente vengono prese nella spirale del gioco compulsivo? Mediamente la fascia d'età media, quindi tra i 40 e i 50, il sesso è maschile. Le condizioni economiche di base della famiglia sono buone, quindi non sono né altamente indigenti né altamente ricchi, quindi sono il CERT o medio, sostanzialmente il CERT o medio. Per cui per quello che riguarda la patologia di cui noi abbiamo notizia e che trattiamo, possiamo dire che non è motivata dal bisogno economico, ma sostanzialmente motivata da disagi, malattie, sofferenze, disturbi della personalità o del nucleo familiare, che trovano nel gioco una delle tante uscite per canalizzare il fastidio che si vive. Siamo sul piano sociale a livello di allarme, dato che il gioco d'azzardo è la terza industria italiana in termini di fatturato, con una crescita annuale che ha sfiorato il 30%. Si calcola che vi sia una macchinetta ogni 145 abitanti. La Giunta Comunale di Fano ha deliberato, nella seduta di ieri, l'adesione al Manifesto dei Sindaci per la Legalità contro il gioco d'azzardo, attraverso la quale i sindaci sottoscrittori chiedono interventi normativi a livello nazionale e regionale e che sia consentito loro il potere di ordinanza e che sia richiesto ai comuni e alle autonomie locali il parere preventivo per l'installazione dei giochi d'azzardo. Anche Fano aderisce al Manifesto dei Sindaci contro il gioco d'azzardo. Questo è un fenomeno, è stato richiamato anche in questi giorni in più occasioni, che magari non appare, non si manifesta, ma che coinvolge molte persone, poi sono situazioni tragiche. E allora chi ha delle responsabilità, come le nostre, come un sindaco, non può non vedere questi fenomeni e ci si deve attrezzare. Si sta lavorando, e questo nello specifico lo sta facendo l'assessore Cecchetelli, su un regolamento da adottare che porteremo presto in Consiglio Comunale, che rivedrà proprio le misure e le regole per l'utilizzo delle slot machine e di altre forme di gioco d'azzardo nel nostro territorio. Quindi questo è al vaglio anche insieme alle associazioni, con anche dei benefici e delle premialità per chi deciderà di non adottare, di non avere le macchinette al proprio interno. E lo stesso, ecco, le altre misure sono legate sostanzialmente anche alla prevenzione. La prevenzione nelle scuole diventa un punto di forza per riuscire ad aiutare i ragazzi ad avere maggiore consapevolezza dei fattori di rischio, ma sicuramente cercando di agire anche nei luoghi di lavoro, nei luoghi di incontro di persone di mezza età.